Eccoci qui ragazzi, buonasera, appena finita Betis Roma, risultato di 1-1, la Roma fallisce la possibilità di restituire il favore alla squadra spagnola vincendo in Spagna per cercare di avere la possibilità di accorciare le distanze e di giocarci negli ultimi due giornate, il primo posto nel girone purtroppo questo non riesce e guadagniamo un punto, stasera ragazzi non so se essere contento e ottimista per un secondo tempo buono della Roma oppure recriminare sul fatto che in questo girone di Europa League la squadra se lo sia messo al culo direttamente da sola ho questa sensazione di disagio nel vedere questa Europa League della Roma perché secondo me con un minimo più di attenzione e di determinazione questo girone tu lo potevi vincere tranquillamente senza problemi invece adesso, a parte che stasera c'è Ludo Goretz Helsinki, il problema è che non devi vincere Ludo Goretz altrimenti tu poi sei costretto a vincere le ultime due e comunque è abbastanza triste vedere che la Roma si deve giocare il secondo posto nel girone di Europa League con una squadra di quel Ludo Goretz cioè questa è una cosa che veramente non ammetto ci toccherà, prende speriamo facendogli scongiuri una delle terze della Champions e questo sicuramente complicherà notevolmente il nostro cammino in Europa per la partita di oggi ragazzi c'è ben poco da dire, ci dice anche male perché il gol loro nel primo tempo è una dorete su un tiro deviato, primo tempo che la Roma comunque ha giocato un po' sotto tono una partita molto fisica, molto tattica, chiaramente oggi abbiamo pagato principalmente la giornata no di Matic che nel primo tempo praticamente non ha giocato infatti nel primo tempo i giocatori del Betis che comunque sono tutti piccoletti, brevi ligni, veloci ci hanno messo in difficoltà a centrocampo perché chiaramente con Cristante e Matic tu vai in difficoltà pur non avendo avuto grosse possibilità, diciamo che nel primo tempo era più giusto 1-0-0 un'occasione per parte, cioè quel tiro di Pellegrini che oggi Pellegrini ragazzi è stato veramente nullo, nullo, nullo io non so che c'è il capitano quest'anno perché l'anno scorso come piava la porta segnava quest'anno invece non segna manco quelle mani, quel tiro da dentro l'aria l'ha acciccato poteva essere determinante, loro avevano avuto quell'occasione con quello davanti alla porta che non si sa perché ha acciccato quella palla a due metri dalla porta, meno male però nel primo tempo la squadra l'ho vista veramente sotto tono, sotto tono a centrocampo sulle fasce dove non abbiamo spinto quasi per nulla, davanti siamo stati inconcludenti diciamo che ha retto bene la difesa, cioè oggi secondo me i migliori in campo sono stati Smalling, i Banez e Mancini che comunque hanno tenuto botta e hanno fatto una buona partita, una buona partita, poi nel secondo tempo c'è la svolta perché Mourinho ci dovrebbe spiegare perché Camara non gioca mai dall'inizio, perché Camara è entrato e non solo ha fatto l'assist per il pareggio di Belotti e meno male che c'è il Vare che ce l'ha consentito ma ha dato anche una bella svegliata alla squadra, il centrocampo è stato più dinamico più veloce, correva addosso a tutti i calciatori del Betis, si è proposto, ha contrastato, ha lottato insomma io non capisco perché sto Camara che non sarà sicuramente un fenomeno non debba mai giocare dall'inizio e non debba mai essere utilizzato di più perché secondo me in questo momento dove Matic e Cristante stanno anche in debito dal punto di vista fisico ci farebbe veramente comodo uno là in mezzo che fa interdizione e che corre, io spero che giochi di più sto giocatore perché altrimenti è inutile averlo comprato per fargli giocare un tempo, 10 minuti in quarto d'ora, giocano sempre gli stessi, noi si ritroviamo adesso a ottobre, a metà d'ottobre con la squadra cotta fisicamente perché giocano sempre gli stessi e poi vai in difficoltà, vai in difficoltà e vincere le partite diventa sicuramente più complicato, nel secondo tempo la pareggiamo subito e poi abbiamo tenuto benissimo il campo non abbiamo avuto chiaramente grosse occasioni da gol perché lì davanti comunque Abram ragazzi io non so che c'è sto giocatore, lo vedo che è impacciato e non riesce a stoppare la valla, non riesce un dribbling, non riesce con i passaggi, io non lo so che cosa abbia influito quest'anno in questo giocatore, fatto stare che noi dobbiamo ritrovare il miglior Abram perché lì davanti segniamo troppo poco, con un Pellegrini in questo stato così negativo, con Belotti che lotta ma non è un fenomeno, con Abram che dovrebbe facciare la differenza là davanti che non segna manco con le mani, andiamo decisamente in difficoltà decisamente in difficoltà e questo non va bene perché tante sale partite che ci stanno ma andiamo a Genova contro la Sampdoria lunedì e non sarà semplice perché cambiato l'allenatore perché per noi Genova è un campo molto ostico però dobbiamo migliorare perché nel primo tempo tanti passaggi sbagliati, poche idee, lanci lunghi e il Belis che secondo me è una discreta squadra ma non è assolutamente più forte della Roma ci ha messo un po' in difficoltà e ripeto non essere arrivati prima a sto girone secondo me c'è veramente tanto rammarico perché era veramente alla portata della Roma però purtroppo paghiamo, paghiamo gli infortuni che poi c'erano tutte le squadre, paghiamo la poca forma di alcuni calciatori perché Spinazzola pure oggi ragazzi non ha fatto dei cotte e dei crude dietro, qualche buon spunto davanti ma nulla di che, Zaleschi non è quello dell'anno scorso è molto meno determinante, a centrocampo soffriamo perché giocano sempre quei due lentoni, anche oggi Cristante pure lui che abbia fatto sta gran partita, davanti adesso che non c'è Di Bala non segna più nessuno, se noi dobbiamo affidarci a Camarà per cambiare partita capite bene che la Roma è in difficoltà dal punto di vista fisico e dal punto di vista dell'atteggiamento di alcuni calciatori, dobbiamo finire questo girone assolutamente con due vittorie perché dobbiamo qualificarci i secondi, non tanto la partita con Ludo Goretz però a me preoccupo la partita ad Helsinki in Finlandia perché farà freddo, sarà un campo sintetico e noi memori della disfatta di Bodo dobbiamo stare attenti e dobbiamo sperare insomma che la squadra recuperi fisicamente per lunedì e soprattutto recuperi mentalmente alcuni giocatori che per noi sono fondamentali, prima per tutti i pellegrini Abram che oggi li ho visti veramente soprattutto il capitano Sottotono, Sottotono poco reattivo, poco non ha lottato, ha perso tanti palloni, non rincorreva l'avversario, insomma mi ha un po' ultato oggi l'atteggiamento di Pellegrini perché se non sei in condizione chiami il cambio e ti fai sostituire con uno che corre almeno perché oggi Pellegrini veramente ragazzi secondo me insieme a Matic è stato il peggiore in campo, però ragazzi prendiamoci questo punto, un punto comunque che fa morale, che muove la classifica di Europa League, era importante non perdere questa partita se no saremmo andati veramente in difficoltà ancora peggiori, ci giocheremo le ultime due partite ripeto, accontentiamoci, c'è un minimo di ottimismo ma anche di preoccupazione per le condizioni fisiche della squadra, speriamo che si recuperi mentalmente e fisicamente in questi giorni e di andare a Genova a prenderci una vittoria che per noi è fondamentale perché siamo già sesti in classifica, l'Inter sta tornando quindi noi non ci possiamo assolutamente permettere di perdere punti con le piccole, il caso Andorra è ultima in classifica e dobbiamo avere un po' più di concentrazione, di cattiveria perché oggi nel primo tempo ci è mancata anche un po' di determinazione, cattiveria, quelli del Bellis entravano decisi, noi un po' meno, nel primo tempo siamo stati più determinati, più cattivi e l'abbiamo pareggiata, quindi anche l'atteggiamento della squadra deve un po' cambiare, deve essere più cattivo, determinato, entrare decisi, correre, incorrere l'avversario perché nessuno qui ti regala un cazzo. Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate della partita, del video, commentate tanti like e ci vediamo domani per le pagelle del match.